Così come nel resto d'Italia non arrivano buoni segnali sul fronte Covid a Civitavecchia. E nella realtà locale la cosa assume ancora maggior valore, considerando che da febbraio scorso non si era assistito, come nel resto del paese, ad un forte rallentamento dei contagi. I numeri viceversa erano rimasti particolarmente alti, col numero dei soggetti positivi rimasto a lungo ampiamente sopra le mille unità. Insomma, nel territorio del virus sarò sempre presente e adesso la sensazione è che stia tornando a recitare un ruolo da protagonista. Andando comunque a compiere la consueta analisi settimanale, prendendo a spunto il periodo che si è concluso il 6 marzo e quello terminato ieri, si riscontra comunque per la seconda volta una discesa del numero dei soggetti complessivamente malati in città per una percentuale del 18,5%. Domenica 6 marzo si contavano infatti 1031 malati, mentre ieri il numero delle persone che attualmente risultano affette dal virus in città è sceso di 191 unità, arrivando a quota 840. Ma a preoccupare è il dato riguardante la singola giornata, con un numero di tamponi effettuati non molto dissimile. I dati, come sempre, vengono presi dai report quotidiani diffusi dall'assessorato regionale della sanità e dall'AS Roma 4 e si riferiscono in particolare alla giornata di sabato. Ebbene, ieri è stato certificato il numero di nuovi soggetti contagiati pari a 91, mentre il 6 marzo scorso erano stati comunicati 24 nuovi positivi. In questo caso si può parlare di un aumento consistente dell'ordine del 380%. In assoluta controtendenza, invece, l'osservazione dei guariti. Nel report diffuso il 6 marzo scorso non ne erano stati certificati, mentre in quello di ieri si parla di 41 guarigioni riscontrate. Il saldo tra nuovi contagi e guariti è comunque di 50 unità e purtroppo a vantaggio dei positivi. Insomma, a Civitavecchia la situazione è del tutto simile a quella che si riscontra nel resto del paese e sembra non lasciare spazio a facili ottimismi, almeno nel breve e medio termine.